7. Marco Aurelio Marco Aurelio, Antonino Augusto, 121-145 d.C., meglio conosciuto come Marco Aurelio, imperatore, filosofo e scrittore romano, adottato nel 138 su indicazione dell'imperatore Adriano, dal futuro suocero e zio acquisito Antonino Pio, che lo nominò erede al trono imperiale. In pensieri dice «Le cose che tu ti affanni a inseguire o a fuggire non vengono a te. Sei tu che vai a loro. Sospendi il tuo giudizio nei loro riguardi. Esse saranno in mote e non ti si vedrà inseguirle né fuggirle». Commento Il ti affanni a inseguire di Marco Aurelio vale il desideri passionalmente dei maestri, cioè desideri con l'io. A che il desiderio si immaterializzi, bisogna desiderare senza passionalità, covando il desiderio ogni giorno dentro di sé, senza l'ansia dell'io, in attesa che la coscienza plasmi la forma fisica del desiderio. Allora saranno le cose a venire da te.